Buongiorno ragazzi, come stiamo? Oggi siamo al 13 febbraio, domani è la festa degli innamorati, per chi è innamorato, fortunati loro, io lo sto ancora cercando, sto cercando la Terminietar, l'anima gemella, chi lo sa dove sarà e si arriverà. Intanto, siccome non c'è l'anima gemella, noi abbiamo un'altra anima gemella, la nostra musica, perché quella c'è sempre, non ti molla mai, ci l'hai nel cuore, per sempre. Perciò ragazzi, pensate bene, sempre al cuore. Link arriva l'amore ragazzi, andiamo avanti a scontare al cuore, anche dopo, sempre al cuore. Oggi siamo liberi ragazzi, senza lavorare. Oggi possiamo fare una pennichella, che non possiamo mai fare, possiamo dormire e rilassarsi. Oggi abbiamo la setta 96 di ottobre. Sentite che sound ragazzi? Come sempre, Brescia Domino. Allora è nata in Italia, a Brescia, al numero 1. E adesso esiste solo via Milano, solo bombe a mano. domani ragazzi auguri a tutti gli innamorati amatemi per sempre oggi fa freddo fuori questi sono gli ultimi freddi poi arriverà la primavera ragazzi basta freddo ormai sta andando via ascoltate sta musica ragazzi questa musica diventerà virale come il coronavirus tutta la testa, tutto il mondo tutti salteranno pensando positivo è solo questione di tempo tutte le mattine vi sveglierete e troverete i miei video che vi assideranno la vita una canzone due tre dieci vinto cento mille e vedrete al colo però questa musica ti deve entrare nel sangue quando ti entra un po' più uscire o entra tutta o non entra ragazzi un po' più uscire Ma ragazzi che è sabato Uscite a smizzarri Uscite finché si può Io adesso andrò a fare una bella pennichella Il riposo del guerriero Dopo una settimana di duro lavoro Bisogna riposarsi ragazzi Ragazzi vi saluto Ci sentiamo dopo Ore 8.30-9 Mi raccomando Sempre hardcore